Referendum Trivelle Referendum Trivelle È giusto partecipare al voto. Ogni cittadino è libero di farlo nel modo in cui ritiene giusto. Partecipare al voto significa essere pienamente cittadini. Paolo Grossi, Presidente della Corte Costituzionale Ben ritrovati amici di Gilda News. Domani, 17 aprile, saranno aperti dalle 7 alle 23 i seggi per il referendum sulle trivedazioni. Come redazione facciamo nostro l'invito ad andare a votare del Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi e l'appello dei Presidenti di Camera e Senato Laura Boltrini e Pietro Grasso. Sciopero del 12 maggio. La Federazione Gilda Unans proclama lo stato di agitazione. Questi i motivi. Trattative per il rinnovo del contratto non ancora aperte. Il Governo non ha stanziato risorse per recuperare quantomeno il potere di acquisto perso dai lavoratori a causa del blocco del contratto. Quest'azione di protesta si aggiunge all'avvio del ricorso risarcitorio alla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Il punto di Reginato Palermo. E così il 12 maggio sarà sciopero nel mondo della scuola. Dopo aver pazientato per diversi mesi, forse troppi, la Federazione Gilda Unans ha deciso di proclamare lo sciopero generale della scuola per richiamare l'attenzione del Governo sui molti problemi irrisolti. Dal contratto scaduto ormai da tempo immemorabile alle norme della legge 107 relative agli albi territoriali e alla chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Nella stessa data sciopereranno anche Cobas e Unicobas, seppure con obiettivi diversi. La Gilda non intende però abbandonare l'idea di uno sciopero unitario con tutte le altre sigle del comparto. D'altronde, contratto e legge 107 sono due questioni centrali per tutti i sindacati. Se CGL, CISL, Will e SNALS accoglieranno la proposta della Gilda, non è da escludere che possa essere individuata una nuova data condivisa per una azione più ampia ed incisiva. Mobilità Sedi sindacali presi da salto dagli insegnanti per la presentazione delle domande di trasferimento a causa anche del poco tempo avuto a disposizione. Ricordiamo che i docenti assunti entro il 2014-2015 e i neassunti nelle fasi 0 e A hanno tempo fino a sabato prossimo, 23 aprile, per presentare le domande. Intanto, Gilda chiede al MIUR la proroga dei termini di scadenza della mobilità. Oltre alla consulenza di insegnanti sui trasferimenti, Gilda è impegnata su altri due fronti. La raccolta delle firme per il referendum contro l'abrogazione di alcune parti della legge 107-2015 e la scadenza delle cariche statutarie a livello provinciale e nazionale. Infatti, si stanno svolgendo in tutte le province i congressi per eleggere gli organismi provinciali e i delegati che dal 20 al 22 maggio 2016 a Perugia parteciperanno all'Assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche nazionali. Al via al concorso a scuola. Inizieranno il 28 aprile le prove per il concorso ed andranno avanti fino a fine maggio. I primi in assoluto saranno i professori di storia dell'arte, scienze agrari, tecnologie nautiche e design del libro. Gli ultimi i maestri della primaria e dell'infanzia. Rimane in dubbio, invece, la questione sulla partecipazione alle prove dei non abilitati, esclusi dal bando e appesi al giudizio dei tribunali. Ma dove sono i commissari? Molti docenti non hanno intenzione di sovbarcarsi l'ennesimo oneroso impegno a fronte di una retribuzione di un euro l'ora, offensiva per la dignità di un lavoratore. Il MIUR ha perso il controllo della situazione e per errore sta inoltrando mail anche agli stessi docenti precari a cui è rivolto il concorso e che in molti casi aspettano da mesi gli arretrati dei loro stipendi. Se il governo intende davvero porre rimedi all'ingiusto trattamento economico previsto per i commissari del concorso, la smetta di tirare dritto per la sua cattiva strada e conceda almeno l'esonero dalle elezioni e dalle altre attività scolastiche e quanto ha dichiarato Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda. Emiliano contro la 107 Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottoscritto i quattro quesiti proposti dal Comitato Promotore del Referendum Abrogativo sulla Buona Scuola. Lo rende noto il coordinamento pugliese del referendum. Classi di concorso nel caos Alle conseguenze degli errori e delle sciatterie contenute nella legge 107 si aggiunge anche la riforma delle classi di concorso Un vero collabrodo viste le innumerevole criticità che emergono fra tutte l'esclusione dei periti informatici dal prossimo concorso a cattedra Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura commentando l'interrogazione rivolta al MIUR a prima firma Maria Marzana Sono spariti inoltre diversi titoli di accesso che precluderanno la possibilità di accedere ai prossimi corsi abilitanti e una serie di lauree umanistiche Ragazzo autistico escluso dalla gita Uno studente autistico di un istituto di Vivorno è arrivato nell'aula si è trovato solo con il suo insegnante di sostegno ignaro che i suoi compagni fossero andati in gita scolastica La dirigente giustifica l'accaduto affermando che si tratterebbe di un equivoco Sui social numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà per Giulio Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it o scaricare l'app Da Irene Anastasia e tutto a rivederci alle prossime news